Quali sono i luoghi della terra in cui nasce l'agricoltura? I luoghi in cui nasce l'agricoltura per la prima volta sono in prossimità di alcuni grandi fiumi. Nella Mesopotamia, la terra fra due fiumi, vicino al fiume Indo in India, vicino al fiume Giallo in Cina, vicino al fiume Azzurro, vicino al fiume Nido in Egitto. Questi sono i luoghi della terra in cui l'uomo inizia per la prima volta a coltivare la terra. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!